zombie apocalypse no lo sanno ma io lo dico sempre ragazzi che non sono brava a giocare quindi oggi ragazzi la puntata è un po' particolare perché abbiamo due deck che siamo sicuri non possano vincere sono abbastanza particolari ecco qua il mio deck ragazzi un deck molto ambiguo capanna dei goblin lapide fornace specchio spirito del ghiaccio scheletri da uno zap e spiriti del fuoco mentre tu con cosa giochi gigante la candy goblin il mega scherro l'orda di scheletri putacchiere le doppie streghe la fireball e la fireball quindi ragazzi l'idea amo è che tu devi riuscire a proteggere anche le mie casette appena hai modo prati gli spari davanti il gigante e noi proviamo a fare casino vai quando vuoi mandami pure l'amichevole questo è cri01 non sei tu vai prova a rimandarmela ok dentro così ragazzi nella prima partita di oggi vediamo se va bene vediamo se va bene amore mio non è facile eh te lo dico non è facile assolutamente stai molto attenta allora dov'è che lo metti il gigante se ce l'hai non ce l'hai allora io metto una fornace all'otto proprio qua urco giuda che sfiga chi è che se ne va per i cazzi suoi bisogna formare quel royal amo bisogna formare quel royal assolutamente eh lo so lo so ma non serve che tu abbia niente sono le mie campanelle tira via la princess tira via la princess che no ci distrugge tutto il gioco non ci abbiamo stronco non ci abbiamo niente non possiamo fare nulla contro la princess adesso gli tira una pala di fuori no 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 per carità amo difenditi di qua ti prego grande ottimo la gang ci sta e anche perché è l'unica cosa pronta che c'è porca miseria come ne stiamo prendendo tante no 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 c'è un grande problema qua c'è un grande problema vediamo di mettere degli scheletrini sopra ahi amo il mago di zap di là cosa gli facciamo eh non ho mano come non ho mano come non ho mano e ci sta bruciando eh non ho mano porca neanche io ho mano come funziona la cosa abbiamo sbagliato deckforce aspetta aspetta deve essere subito bene lo sputacchiere mi piace fornace giocata un pochettino esagerata ma bello il tuo coso boh chissà cosa succede di qua ma tu gigante pensi di metterlo o pensi di non metterlo mettilo sul boia bravo mettilo sul boia ecco adesso amo tutto quello che hai va a sinistra tutto quello che hai va a sinistra oh merda abbiamo già perso la concezione di poter chiudere in vittoria questa partita vabbè quindi abbiamo perso praticamente dobbiamo chiuderci in difesa allora chiudiamoci in difesa facendo ciclare carte a nastro ragazzi carte a nastro facciamole ciclare e vediamo di mettere tutte le truppe possibili ed immaginabili tutti gli edifici gli edifici possibili ed immaginabili ok lì mi piace io vado col oh bene la zap bene la zap andiamo a difenderci ancora va bene quel mega sgherro ci sta ci sta la prinsus è bloccata lì dalla primavera del 94 ragazzi ma la lasciamo là in alto non ce ne frega niente spammiamo spammiamo roba spammiamo roba che devo avere pronte altre e altri edifici in modo da sì sì no 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 proprio in mezzo così fischia e adesso cosa cioè cazzo tutti li stanno sparando contro tutti li stanno sparando contro vai niente è andato anche questo è andato anche questo io provo a mettere una casupola dei goblin di qua la vedo un po' grigiamo la vedo leggermente grigia sai quando la vedi leggermente grigia ecco quello è il modo in cui la vedi leggermente grigia andiamo a zapparli di là e intanto a prenderle di qua no direi che non ha assolutamente senso questo deck giocato così perdiamo già la prima torre non siamo neanche no direi proprio che non vanno bene questi deck assieme in quanto ci sono dei deterioranti problemi nel posizionare delle truppe altre tanti problemi nell'avere l'isir ma adesso vado a fare una piccola modifica in corso come direbbero in formula 1 vediamo se riusciamo a sistemarlo ok questo è andato tu tieni pure il tuo deck io vado a cambiare il mio volevo semplicemente togliere le case da vavanguiz vavanguiz questo royale allora fammi vedere il tuo deck per favore che faccio un cambio in corsa faccio un cambio in corso tu intanto intratteni i ragazzi in qualche modo intratteni i ragazzi in qualche modo allora fammi vedere il deck non sei bravo a intrattenere non è vero non sei bravo a fare niente vai a cucinare sei abbastanza brava allora vediamo di giocare neanche quello allora non sei bravo neanche a cucinare allora mettiamo un bel arco x di qua non lo posso specchiare perché non avrebbe senso facciamo una lieve sistemazione al deck per vedere di andare a fare un pochettino di male non abbiamo assolutamente la zap quindi il problema potrebbe sussistere in quanto io non abbia nulla per poter contraattaccare eventualmente princess o per caso zappare truppe ambigue quindi direi che direi che direi che arco x sciamanna fa naia gli mettiamo anche un bel golem del ghiaccio davanti non si sa mai mettiamo al posto dello specchio sì il deck infame dai la proviamo dai la proviamo vai amo vai leggera modifica del deck giusto ho cambiato 5 carte su 8 ma noi ci proviamo lo stesso a vedere se riusciamo in qualche modo a portarci a casa il risultato dai eh mi raccomando amo mi raccomando cerca di giocare quel gigante appena riesci cerca di non darglielo in bocca alle loro truppe ce l'hai già il giant non ce l'hai ok 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 allora partiamo molto tranquillamente da qua io parto con un bel moschettiere sulla sinistra però sono dei bastardi eh però sono dei bastardi sono guarda ma che cacchio è questo deck che c'hanno ok andiamo a fare così bene dai ce la possiamo fare ce la possiamo fare non hanno giocato molto bene hanno avuto solo un po' di culo ma siamo riusciti anche a contrastare eccezionalmente se riuscisse a giocare giù quell'arco amo bene bene sì mi piace mi piace un sacco questa giocata brava bravissima 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 appena il giant passa porca puttana li tiro dietro un arco che se lo ricordano per tutta la vita facciamo andare il giant facciamo andare il giant ancora molto easy shit molto easy shit 7 6 10 di mana proteggi il giant ovviamente 6 va ok tranquilla tranquilla giù l'arco ok che ce li hanno lisciati ok amo proteggi quegli sgherri tirali via no niente da fare è già andato l'arco è già andato l'arco è già andato bene però bene la strega bene la strega così dai che se riesco oh oh che male oh che male oh che male bene il cerbottaniere bene il cerbottaniere è già stato tirato giù ma il pisciatelli non ha fatto niente il mortaio amo non gli hanno fatto assolutamente niente quel mortaio entra la loro strega ci posso anche pensare io eventualmente ma io faccio proprio spirito del ghiaccio così spreco uno di mana prot bene così siamo sopra siamo sopra se io apro con un arco tu cosa fai non lo so ho fatto in basso la strega notturna aspetta 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 facciamo che loro hanno giocato lo grider e c'ho dieci vai gioca gioca se c'hai dieci non devi aspettare te lo dico ogni volta andiamo a fare così e andiamo a fare così proteggiamo la strega proteggiamo la strega benissimo non so che cosa tu abbia messo ma hai fatto una gran giocata no lo dovevi giocare invece lo dovevi giocare brava brava minchia dietro l'arco dietro l'arco no no non hai niente no che sfortuna ok ok ci può stare ci può stare andiamo a zappare no li abbiamo solo tirati via li abbiamo solo tirati via non è successo assolutamente niente siamo sotto pesantemente ma qualche danno gliel'abbiamo anche tirato no quella fireball lì che cosa era aspetta un attimo il golem del ghiaccio il golem del ghiaccio una legittima difesa dice la pami ok ok una legittima difesa non so quanto sia la torre ecco non c'era bisogno di saperlo in quanto è andata giù ragazzi quindi nessun problema assolutamente nel perdere anche la torre di sinistra il giant subito davanti cattivissimo gli mettiamo anche una bene così le fornaci ambigue ragazzi le fornaci molto ambigue andiamo a zappare c'era praticamente tutto il mondo sul gigante quindi niente da fare andiamo a perdere anche questa partita ragazzi a 12 secondi dalla fine ma voi non dovete disperare ragazzi non dovete disperare perché domani torneremo ragazzi domani torneremo a fare le nostre consuete live torneremo con voi ragazzi tre volte al giorno se la scuola è iniziata vi ricordo che la live di domani inizierà alle 13 e 30 potrebbe terminare alle 15 vi ricordo anche che alle 17 non iniziano la scuola il 6 e il 7 ma alcuni iniziano il 6 alcuni iniziano il 6 ma forse il giù è diverso e quindi ragazzi super polligioni in su per questa live che poi invece era un video iscrivetevi al canale mi raccomando io vi mando un bacio grande dalle vacanze e noi ci vediamo domani ciao